Michelle Unzichera è tornata con il suo ex fidanzato? Le foto lasciano pochi dubbi. Guardale a seguire nel nostro articolo. Michelle Unzichera è stata pizzicata insieme al suo ex fidanzato. Cosa bolle in pentola? Qualcuno suggerisce che ci sia un ritorno di fiamma in corso. È vero? Non stiamo parlando di Alessandro Carollo, bensì di Giovanni Angiolini, il bellissimo chirurgo sardo che ha fatto coppia con la conduttrice svizzera dopo la fine del matrimonio con l'ex marito Tommaso Trussardi. I due sono stati paparazzati davvero nel centro di Milano. Cosa succede fra loro? Sul loro flirt, in effetti, si era pronunciato anche Trussardi stesso, che aveva appellato Angiolini come una persona poco per bene. Ecco le sue parole in quell'occasione. Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona per bene. Michelle Unzichera e Giovanni Angiolini si sono frequentati per qualche mese, nel 2022. Con la fine dell'estate, però, la love story arrivò al capolinea. Nell'intervista di Nunzia De Girolamo, a Ciao Maschio, a proposito di questa relazione, la conduttrice disse quanto segue, ci siamo frequentati in un periodo molto difficile della sua vita e difficile anche della mia. Posso dire che ci siamo fatti del bene, Michelle Unzichera è tornata con il suo ex fidanzato? Michelle Unzichera, oltre all'intervento da Nunzia De Girolamo, non ha mai parlato pubblicamente della storia con l'ex fidanzato Giovanni. Anzi, quel flirt sembrava essere ormai morto e sepolto, ma qualcosa sembra essere cambiato. I due sono stati visti passeggiare insieme per le vie di Milano. C'è un ritorno di fiamma o si tratta solo di un incontro fra vecchi amici? In questi due, dopo la fine della relazione con Angiolini, la conduttrice ha avuto una love story con Alessandro Carollo, finita qualche mese fa, nonostante entrambi si dedicassero frasi smielate sui social. Ancora, poi, si è vociferato di un flirt con Matteo Viezzer, un imprenditore nel campo della moda. Con quest'ultimo Michelle era stata vista a cena e in loro compagnia c'erano anche Anna Tatangelo e l'ex fidanzato Mattia Narducci. Al momento, comunque, sul presunto ritorno di fiamma con Giovanni Angiolini, nessuno dei diretti interessati ha voluto dire nulla. Chi è Giovanni Angiolini? Occhi di ghiaccio e fisico scolpito. Ecco cosa salta subito all'occhio di Giovanni Angiolini. Il chirurgo che ha fatto coppia con Michelle Unziker ha un passato in televisione. Il dottore è stato un GFino nella versione NIP del Grande Fratello nel 2015. Nonostante fosse apprezzatissimo, Giovanni lasciò prematuramente il reality per tornare al suo vero lavoro. Lo abbiamo successivamente visto nel programma I Fatti Vostri e in Buongiorno Benessere.